È Steve and Maggie. È Steve and Maggie in Italiano. Oh, wow! Ehi, ciao, bimbi e bimbe! Guardate la mia città! Non è grandiosa? Oh, c'è così tanto da fare! Cosa vedete? Cosa sentite? Oh, sta arrivando qualcosa di grande. Diamo un'occhiata più da vicino. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ehi, venite e cantate con me! Che cos'è? È un autobus. Che cos'è? È un autobus. Che cos'è? È un autobus. Venite e ditelo con me! Sì! Oh, aspetta! Ok, bimbi e bimbe, venite a dirlo con me! È un autobus, è un autobus, è un autobus! Sì! Oh, scusate! All'autista dell'autobus non piace! Mi dispiace, signor autista! Ok, riparti! Ciao, ciao all'autobus! E vai! Oh, che cos'è stato? Ancora! Che cos'è? Che cos'è, bimbi e bimbe? Wow! Cantate con me! Sì! Che cos'è? È una moto? Che cos'è? È una moto? Che cos'è? È una moto? Venite a dirla con me! Sì! Pronti? Ferma! Guardate, bimbi e bimbe! È una moto! Sì! È una moto veloce! Quindi dite in fretta! È una moto, è una moto, è una moto! Ben fatto! Wow! È una moto puzzolente! Vuole andarsene! Quindi, pronti, attenti, via! Oh, santo cielo! Fate ciao ciao alla moto! Guardate, guardate! Sta arrivando qualcosa, bimbi e bimbe! Ascoltate! Che cos'è? Lo sapete? Io lo so! Ehi, guardate qui! Cantate con me! Forza! Che cos'è? È un'auto? Che cos'è? È un'auto? Che cos'è? È un'auto? Che cos'è? È un'auto? Aspetta, aspetta! Abbiamo bisogno di tempo per dire... È un'auto, è un'auto, è un'auto! Non è vero? Oh, sì! Oh, oh! Credo che poserò l'auto a terra! Sì! Così possiamo dire... Ciao, ciao all'auto! Ciao, ciao! Oh, cielo! Oh, ascoltate, ascoltate! Credo di sapere cosa sia! E voi? Sì! Allora cantate con me! Dai! Che cos'è? È un elicottero? Che cos'è? È un elicottero? Che cos'è? È un elicottero? Venite a dirlo con me! Oh, l'ho preso! Wow! È rumoroso! Allora gridiamo... È un elicottero! È un elicottero! È un elicottero! Oh, sì! Oh, no! Accidenti! Cattivo, cattivo elicottero! Sono felice di dire addio all'elicottero! Ehi, ascoltate, bimbi e bimbe! Cosa sta arrivando? Sembra un treno! Ma non è un treno! Allora, che cos'è? Cantate con me! Sì! Che cos'è? È un tram! Che cos'è? È un tram! Che cos'è? È un tram! Venite a dirlo con me! Sì! Oh, aspetta! Oh, che sciocco che sono! È stato pericoloso, vero? Ehi! Ascoltate! Che cos'è questo rumore? Sembra acqua! Allora, che cos'è? Oh, guardate! È una barca! Cantate con me! Sì! Che cos'è? È una barca! Che cos'è? È una barca! Che cos'è? È una barca! Venite a dirlo con me! Sì! Oh, aspetta! Divertiamoci un po' con questa barca! Sì! Dite con me! È una barca! È una barca! È una barca! Ancora! È una barca! È una barca! È una barca! Ben fatto! Wow! Che cos'è stato? Ehi! Guardate! È un aereo! Ditelo con me! È un aereo! È un aereo! È un aereo! Ehi! Oh, cielo! Che cattivo, cattivo aereo! Oh! Cos'è stato? Non lo so! Ancora! Che cos'è? Non lo so! Cantate con me, bimbi bimbe! Andiamo! Che cos'è? Non lo so! Che cos'è? Non lo so! Che cos'è? Non lo so! Guarda! È un robot! Sì! È un robot! Sì! Ascolta! Che cos'è questo rumore? Oh, no! Maggie! Il tuo robot sta distruggendo la mia città giocattolo! Ditelo con me, bimbi e bimbe! Cattivo, cattivo, pennuto! Ciao, bimbi e bimbe! È Halloween stasera! Ci sono un sacco di cose spaventose in giro, quindi non uscirò stasera! No, non uscirò per niente! Oh, e ascoltate! Che cos'è? Oh, sorbetto! Sì! Sorbetto, sorbetto, sorbetto! Urletto! Sciacca, Steve! Halloween è spaventoso! Non è così, bimbi e bimbe? Oh, ciao, Steve! Oh, Maggie! Cattivo, cattivo, pennuto! Andiamo, Steve! Ho bisogno del tuo aiuto a questo Halloween! Abracadabra! Cosa? Sciacca, Steve! Urla proprio per tutto! Ehi, ma dove mi trovo adesso? Sei nel mio camion dei sorbetti! Questo è lo spaventoso camion dei sorbetti di Maggie! Sì! Il mio urletto, il tuo urletto e tutti i nostri urletti per il... Sorbetto! Oh, sì! 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 Andiamo! E ricordate, urlate forte quando vedete i mostri di Halloween! Mostri? Mostri? Oh! Venite con noi, bimbi e bimbe! Potrebbe essere divertente! Questo è il carro dei sorbetti! Di Maggie, fai un urletto! Oh! Oh! E di Maggie, questo carro rende Halloween strano! Che cos'è quello? È un vampiro! Ben fatto, Steve! Oh, Maggie! Non fermarti! Ancora un altro! Sì! C'è un altro vampiro! Oh! 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 Così tanti vampiri! Sì! Sono tutti qua per il gelato con salsina rosso sangue! Cosa? Salsina rosso sangue? Sì! Su, al lavoro, Steve! I vampiri sono affamati! Ok! Prendi il cono, mettici il gelato e sopra la salsa! Giusto! La salsa? Oh! Salsa rosso sangue! Ehi! Aspettate un attimo! Ma sa di lampone! Ma è lampone! Oh! Credo che questi vampiri siano davvero affamati! Andiamo! Mettiamoci al lavoro! Oh! Sì! Gelato! Sì! Ora la salsa! Sono affamati, Steve! Continua! Veloce! Veloce! Più gelato! Più salsa! Continua così! Sì! Sì! Ok! Allora tutti i vampiri sono andati! Maggie! Sì! Ben fatto! Andiamo! Sì! E ricorda di urlare quando vedi dei mostri! Cosa? I mostri? Questo è il carro dei sorbetti! Fai un urletto! E' di Maggie! Questo carro rende Halloween strano! Gli zombie! Sì! Ottimo lavoro, Steve! Continua a strillare! Cosa? Dita di cioccolato! E' un altro! Ancora uno! Sì! Proprio così! Sì! Maggie! Ci sono così tanti zombie! Ottimo lavoro, Steve! Gli zombie sono qui per i gelati! Alle dita! Cosa? Dita? Davvero? Non credo proprio, no! Oh! Dita di cioccolato! Sì! Sono deliziose, non è così? Mettiti al lavoro, Steve! Ok, Maggie! Andiamo! Yay! Sì! Gelato! Sì! Bravo! Fallo! Veloce! Proprio così! Super! Oh! E i tuoi urletti hanno davvero aiutato! Cosa, Maggie? Sì! I miei urletti hanno aiutato! Continua così! Andiamo! Ok! Andiamo! Oh! Ricordati di urlare quando vedi dei mostri! Questo è il carro dei sorbetti! Fai un urletto! È di Maggie! Questo carro rende Halloween strano! Ok! Ci siamo! Scusa, Maggie! Ma non vedo nessun mostro di Halloween a queste parti! Perché devi urlare! Cosa, Maggie? Uno scheletro! Sì! Ben fatto! Continua così, Steve! Continua! Ok! Uno scheletro! Un altro! Sì! Ancora uno! Super! Sì! Allora, Maggie, che tipo di gelato piace agli scheletri? Gelato al cioccolato con le nocche! Con le nocche? Sì! Con le nocche! Oh! Dovrei provarne un po', bimbiebimbe! Sì! Ok! Sono pop-corn! Sì! Dai, Steve! Al lavoro! Ok! Mettiamoci al lavoro! Dai! Ecco qua! Maggi, questo Halloween è grandioso! Non è così? È divertente fare urletti per i sorbetti! Andiamo, Maggie, partiamo! Sì! Sì! Questo è il carro dei sorbetti, fai un urletto! È di Maggie, questo carro rende Halloween strano! Oh, non ancora! No, 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 no! Oh, delizioso! Oh! Ehi! Il mio gelato! Eila! Oh, tu cattivo, cattivo scheletro! Allora, bimbie e bimbe, adesso dobbiamo fare un urletto per il sorbetto! Oh, potete urlare con me, andiamo! Uno, due, tre! Sì! Oh, Steve! Begno, righetti! Sì! Ok, le streghe sono qui! Servono gelati con i ragni! Coi ragni? Sì! Coi ragni? Oh! Ranni di gelatina! Oh! Deliziosi! Ok, mettiamoci al lavoro! Ecco qua! Ok, quindi tutte le streghe hanno il loro gelato! Sì! Yeah! Oh! Cos'è stato, Maggie? Oh, dice che è rimasto un solo gelato all'interno della macchina dei gelati! Quindi è per te! Un gelato? Per me? Sì! Oh, bene! Allora mi prenderò un gelato con... Un sacco di salsa, rosso sangue di lampone sopra, oh sì, dita di cioccolato, un sacco di nocchino di nocchino di popcorn e ranni di gelatina in cima! Questo sembra delizioso! Sì! Andiamo, Steve! Cosa, Maggie? Ok! Oh, Maggie! Che ha dei sorbetti! Oh, oh! Ditelo con me, bimbi e bimbe! Tu cattivo, cattivo, pennuto! Oh, oh, oh! Oh, non oggi è domenica! Perfetto per dormire! Oh! Cosa? Sono le nove! Farò tardi a scuola! Devo proprio alzarmi! Alzarmi! Oh! Oh, no! Devo alzarmi, alzarmi, alzarmi ora! Alzarmi, alzarmi, alzarmi ora! Alzarmi, alzarmi, alzarmi ora! E non fare il pigrone! Oh! Farò tardi a scuola! Oh, è tardi, è tardi, è tardi! Oh, aspetta un attimo! Dov'è il mio zaino? Oh, è qua! Oh! Oh! Sto ancora indossando il mio pigiama! Ah, 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 ah! Hey, Steve! Steve! Non adesso, Maggie! Altrimenti farò tardi a scuola! Oh! Ma oggi è domenica! Ah, 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 ah! Sciocco, Steve! Oh, bimbi e bimbe! Mi devo vestire! Mi devo vestire adesso! Oh, oh! Devi vestirti, vestirti, vestirti ora! Ah, 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 ah! Devi vestirti, vestirti, vestirti ora! Ah, ah, ah! Devi vestirti, vestirti, vestirti ora! Ma metti prima le mutande! Oh, 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 oh! Che sciocco! Oh! Ah! Ma sto ancora indossando il mio pigiama! Oh, Steve! Guarda! Oggi è... Oh, Maggie! Oggi è bel tempo! Sì, molto interessante! Ma sono in ritardo! No! Oggi è domenica! Oh, sciocco, Steve! Oh, è tardi, è tardi! Ma... Oh! Non dimentichiamoci della colazione! Sì! Facciamo colazione, colazione! Facciamo colazione, colazione! Facciamo colazione, colazione! Ma non mangiarla in fredda! Oh, chiedo scusa, Bim e Bim! Credo che adesso dovrò lavarmi i denti! Ascolta un attimo! Oggi è... Oh, lo so che bel tempo, Maggie! Ma devo lavarmi i denti adesso! Oh! Adesso andiamo a fare uno di quei classici! È domenica! È domenica! Steve, non ascolta né me, né la radio! Laviamo i denti, laviamo i denti! Laviamo i denti, laviamo i denti! Laviamo i denti, laviamo i denti! Laviamo anche la faccia! Ok, sono pronto per la scuola! Steve, Steve! Guarda questa! Oh, Maggie, non ho proprio il tempo di guardare il meteo! E so che è bel tempo! Oh, Maggie, farò davvero tardi a scuola! Ah, sciacca, sciacca, Steve! Vediamo che succede a scuola! Di domenica! Quando vai a scuola, vai a scuola, quando vai a scuola, vai a scuola, quando vai a scuola, quando vai a scuola, vai a scuola, attento alla cacca! Oh, ma che giornata tremenda! Oh, ma sono qua, a scuola, finalmente! Ok, bimbi e bimbe, calmi, calmi, scusate tanto per il ritardo, ma, hey, dove sono andati a finire tutti quanti? Steve, Steve, è domenica! Cosa? Maggie, perché non mi hai detto che oggi è domenica? L'ho fatta! Oh, cattivo, cattivo pennuto! Oh, sciocco, sciocco, Steve! Ah, ah, ah! Sì, Maggie, forse hai ragione! Sì! Ciao, ciao, bimbi e bimbe! Ciao, ciao! Alla prossima! Che mattinata! Vi ricordate? Ah, ah, ah! Prevo alzarmi, alzarmi, alzarmi ora! Alzarmi, alzarmi, alzarmi ora! Alzarmi, alzarmi, alzarmi ora! E non fare il picrone! Oh, bimbi e bimbi, mi devo vestire! Mi devo vestire, adesso! Oh, oh! Devi vestirti, vestirti, vestirti ora! Devi vestirti, vestirti, vestirti ora! Devi vestirti, vestirti, vestirti ora! Ma metti prima le mutande! Oh, attacchi, attacchi, ma, oh, l'ultima intenzione è la colazione, sì! Facciamo colazione, colazione! Facciamo colazione, colazione! Facciamo colazione, colazione! Ma non mangiarla in fredda! Oh, scusa, bimbi e bimbi! Ma, io non ti ho pensato da lavarmi i denti! Laviamo i denti, laviamo i denti! Laviamo i denti, laviamo i denti! Laviamo i denti, laviamo i denti! Laviamo anche la faccia! Ok, sono pronta per la scuola! Quando vai a scuola, vai a scuola, quando vai a scuola, vai a scuola, quando vai a scuola, vai a scuola, attento alla cacca! Uuggh! Grazie a tutti